Continuiamo questa video lezione in cui andremo a modificare le tabelle con LibreOffice Writer Per chi si fosse perso la prima parte della video lezione vi metto il link qui in alto nelle schede Vediamo adesso come inserire degli sfondi alle nostre celle Come per i paragrafi anche per le celle è possibile inserire due tipi di sfondi Il primo sfondo si applica in questo modo Metto il cursore all'interno e posso utilizzare il colore di sfondo che si trova nella barra degli strumenti della tabella Per esempio diamogli un azzurro Quindi tutta questa riga avrà questo azzurro qua Proviamo a mettere a questa cella un altro tipo di sfondo Per fare ciò metto sempre il cursore all'interno Faccio tasto destro Paragrafo Area Colore E vado a dargli per esempio un arancione Ok Vedete che è un pochettino diverso Perché questo qua è uno sfondo completo Nel senso tutto l'area della cella viene riempita con lo sfondo che ho deciso di mettere Mentre In questo caso Lascerà dei piccoli bordi bianchi Tutto attorno Quindi soltanto l'area dove è possibile scrivere all'interno della tabella Sarà riempito dallo sfondo E poi ci sarà un piccolo bordino bianco Tutto attorno alla nostra cella Per dimostrarvi potrei mettere anche lo sfondo a questo qua In modo da far vedere che Per esempio questo verde qua Vedete che quello interno è stato messo col tasso destro paragrafo Quell'arancione Mentre quello esterno è stato messo con questo tipo di sfondo Quindi Il verde occupa tutta l'area della cella Invece l'arancione occuperà soltanto la parte dove è possibile Scrivere all'interno della cella Quindi soltanto dove verranno visualizzate le lettere Quindi anche per la tabella Esistono due tipi di sfondo Vediamo adesso come fare dei piccoli calcoli All'interno della nostra tabella Per esempio posso scrivere qua un numero 20 Qui scrivo 34 Magari facciamo in modo che vengano visualizzate al centro Quindi cambio l'orientamento del testo Potrei cambiare l'orientamento di tutta la tabella Quindi la seleziono tutte e poi gli dico metti tutto al centro Andiamo a mettere un altro numero anche qua Per esempio 67 E in questa cella arancione voglio la somma di queste tre celle qua E' possibile in Writer fare dei piccoli calcoli Quando inseriamo le tabelle Infatti le tabelle vengono considerate come dei piccoli fogli elettronici da LibreOffice Writer Infatti se noi scriviamo uguale in una cella In alto come potete vedere L'uguale non lo ha scritto nella cella Ma lo ha scritto in questa nuova barra che si è andata ad inserire qua in alto Che è la barra delle formule E che ha un po' di dimistichezza con i fogli di calcolo Quindi con Excel o con LibreOffice Calc Riconosce questa barra della formula Infatti è la stessa che viene visualizzata Appunto nei fogli di calcoli Ora I calcoli che possiamo fare sono dei calcoli molto semplici Infatti Se volete fare dei calcoli più complessi Il mio consiglio è Utilizzate un foglio elettronico E poi magari copiate la tabella alle celle del foglio elettronico E le andate ad inserire in Writer Perché sono veramente pochissime formule che possiamo applicare Per esempio una di queste è la somma Come faccio ad applicarla? Basta andare su funzioni Vedete che ci sono alcune semplici formule Basta schiacciare su somma Lui mi aggiunge la parola chiave sum Somma in inglese E poi io devo andare a selezionare i quali celle andare a sommare In questo caso voglio selezionare Clicco Tengo premuto la cella dove c'è il 20 E vedete che lui mi aggiunge sum a 1 Poi mi sposto sempre tenendo premuto sulla seconda E poi mi sposto sulla terza In questo caso se conoscete un pochettino il linguaggio di Excel Vi sto dicendo Somma le celle che vanno da A1 a C1 Ha rinominato le celle che abbiamo creato Come se fossero le celle di un foglio elettronico Infatti la prima in alto a sinistra si chiama A1 A è la colonna E1 è la riga Questa è la cella B1 Colonna B cella 1 E questa è la cella C1 Colonna C riga 1 Quindi io sto dicendo Somma le celle da A1 a C1 Quando faccio invio Vedete che la somma viene inserita All'interno di questa cella Passando col mouse sopra il numero 121 E' possibile vedere cosa contiene all'interno la cella Cioè la formula uguale sum A1 C1 Possiamo andare a sommare anche celle distanti In questo caso facciamo uguale Potrei fare una sottrazione in questo caso 20 Meno 34 Quindi A1 Meno C1 Faccio invio Vedete che mi scrive meno il 14 Da quest'altra parte potrei fare una moltiplicazione Cioè gli distanti sempre Quindi l'uguale Clicco sul 20 Per 34 Faccio uguale Quindi 680 Cosa particolare è che se io Aggiorno un campo Quindi da qua diventa 20 diventa 29 Quando vado a cambiare Il mio Numero all'interno della cella Vedete che Tutte le formule si aggiornano in automatico Abbiamo visto nel precedente video come ridimensionare le colonne Invece per quanto riguarda l'altezza delle righe Quest'ultima può cambiare anche aumentando la dimensione del testo Per esempio se io metto Un 28 Vedete che l'altezza della riga è cambiata Si è adattata In base alla grandezza del testo Che c'è in questa cella Come ultima cosa vediamo come eliminare una tabella Basta mettere il cursore all'interno della tabella E O dalla barra in basso degli strumenti della tabella Schiacciare elimina tabella Oppure fare tasto destro In qualsiasi punto all'interno della tabella E fare elimina E poi selezionare tabella In questo modo La tabella verrà cancellata dal nostro foglio di writer Anche per questa video lezione è tutto Ci vediamo in un prossimo video Ciao 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 Ciao